Le norme di contenimento stanno funzionando ma l'emergenza non è ancora finita, per questo l'allentamento del lockdown nella cosiddetta fase 2 avrà scadenze precise e uguali per tutta Italia. Il piano del supercommissario Vittorio Colau, che sarà presentato forse già sabato, prevede la graduale e lenta riapertura dal 4 maggio di diverse attività produttive, forse anche dal 27 aprile per le aziende già in grado di rispettare tutte le norme di sicurezza. Si comincia dai comparti che possiedono un indice di rischio più basso, come quello edile, manifatturiere e quello dei servizi, settori che rappresentano la spina dorsale della nostra economia e che coinvolgono quasi 4 milioni di lavoratori. Ma tra chi rimarrà a casa, soprattutto i smart working, alternativa che il governo promuove con forza, saranno circa 2 milioni e 800 mila le persone che torneranno effettivamente sul posto di lavoro. Per garantire gli spostamenti, il trasporto pubblico sarà potenziato, controllato e contingentato, sanificazione giornaliera per autobus e metropolitane, poi mascherine, liquidi, disinfettanti e numero chiuso a bordo per assicurare la distanza di sicurezza. Verranno facilitate forme alternative di mobilità, dal bike sharing allo scooter sharing e facilitati gli spostamenti con mezzi propri, con l'eliminazione di tutte le zone a traffico limitato, soprattutto nelle grandi città. Dall'11 maggio potrebbero riaprire anche i negozi al dettaglio, il 18 bar e ristoranti, ma con regole rigidissime su distanze e igiene. Rispettando sempre il distanziamento sociale, dal 4 maggio riapriranno anche parchi e cimiteri e potremo tornare a spostarci liberamente, ma solo all'interno della regione in cui viviamo, con limitazioni previste solamente per anziani, i più a rischio in questa emergenza sanitaria.